Siamo venuti non per fare una cerimonia, perché ovviamente la cerimonia si farà quando, tra la fine di agosto e i primi di settembre, come è stato detto, sarà terminato. E spero sia una grande festa per tutti noi. Dopo le assemblee dei cento luoghi, dopo aver discusso varie opzioni, sapete, c'era l'opzione di un parcheggio interrato, c'era l'opzione di una strada di collegamento, c'era l'opzione che mi diceva il signore, che è stato tra l'altro dirigente dei Galileo, quando qui c'era la grande fabbrica della Galileo, del cantiere. Alla fine è stato deciso di fare solo il giardino, che è questo mezzo ettaro, per un intervento di 1.400.000 euro, che prevederà il laghetto, lo spazio giochi per i bambini, abbiamo scelto il colore, poi uno spazio per i ragazzi un po' più grandi. E con questi tempi noi realizzeremo il giardino. Non verrà qui il cantiere della Trambia, d'accordo? Il giardino si chiamerà ex officine Galileo.